allora gentili colleghi e colleghe buonasera torno alla consueta modalità face to face così mi vedete in faccia perché ho capito che preferite vedere la mia faccia piuttosto che le mie peraltro bellissime foto di roma immaginerete perché sono qui ovviamente perché grazie alla continua collaborazione con gli amici e colleghi di appler mi trovo a raccontarvi in questo caso solo per l'emilia romagna ma presumo che analoga ordinanza sia stata emessa o in via di emissione per il veneto il friuli venezia giulia sono a raccontarvi le ultime disposizioni adottate dal punto del governatore gli piace sentirsi chiamare così adesso ai presidenti delle regioni l'ultima ordinanza emessa oggi e che entrerà in vigore il 14 di novembre oggi ne abbiamo 12 entrerà in vigore il 14 di novembre e avrà validità fino al 3 dicembre salvo ovviamente ulteriori aggiornamenti nel quel caso ci rivedremo sempre in video allora l'emilia romagna che cosa ha deciso per evitare di finire in un lockdown ormai anche questa parola va di moda più pesante ha adottato alcune prescrizioni che vado a raccontarvi prima alcune misure di carattere generale innanzitutto l'uso della mascherina che diventa sempre obbligatorio al di fuori dell'abitazione ad eccezione ovviamente dei bambini con età inferiore ai sei anni questo non si dice nulla di nuovo e anche ad eccezione dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva oppure per i soggetti che abbiano patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e per coloro che con questi ultimi debbano interagire quindi in realtà verrebbe da dire quasi nulla di nuovo se non l'obbligo di indossarla fuori dall'abitazione diciamo senza se e senza ma quindi anche in luoghi non non affollati o potenzialmente affollabili diciamola così rimane il fatto che chi svolge attività sportiva secondo il dpcm la mascherina comunque la deve avere a seguito quindi non è tenuta di indossarla mentre svolge attività sportiva ma comunque è bene che ce l'abbia il seguito si precisa una precisazione secondo me inutile ma è giusto che sia scritta perché ci semplifica comunque la vita si precisa che in caso di momentaneo abbassamento della mascherina per consumazione di cibi o bevande o per fumare punto dovrà in ogni caso essere assicurata la distanza minima ormai famosa di un metro salvo eventuali protocolli o misure più restrittive diciamo comunque il metro sempre forever si precisa che è consentito svolgere attività sportiva e motori all'aperto e preferibilmente vabbè presso parchi pubblici aree verdi rurali e periferiche dove accessibili comunque mantenendo il distanziamento di almeno due metri per l'attività sportiva e un metro per le attività motorie in ogni caso quello che è vietato o meglio quello che è da fare è attività sportiva e motoria fuori dalle strade dalle piazze del centro storico della città o nelle aree solitamente affollate quindi in questi casi non si può svolgere attività sportiva e motoria beh soprattutto sportiva motoria poi è da vedere la altra prescrizione l'accesso agli esercizi di vendita è consentito ad una persona per una ad una persona scusate per ogni nucleo familiare a meno che non ci sia necessità di accompagnare persone non autosufficienti oppure con difficoltà motorie o minori di età inferiore a 14 anni quindi infra 14 anni quindi per ogni nucleo familiare una persona va a fare la spesa a meno che non debba accompagnare a non autosufficienti persone con difficoltà motorie o infra 14 anni viene fatto di vieto sulle aree pubbliche o private fatto di vieto dell'esercizio di attività di commercio al dettaglio nell'ambito di mercati si dice di cui al decreto legislativo 114 del 98 quindi mercati nonché l'attività di vendita dei mercati contadini quelli che sono stati individuati dal decreto ministeriale del 20 novembre 2007 a meno che i comuni non abbiano adottato un apposito piano che deve essere consegnato ai commercianti che deve prevedere tutta una serie di condizioni minimali e in particolare nel caso di mercati all'aperto una perimetrazione quindi non ci deve essere libero accesso ovunque deve esserci al contrario un unico varco di accesso che deve essere separato da quello di uscita quindi direi percorsi a senso unico tendenzialmente o a percorso comunque obbligato sorveglianza pubblica o privata che verifichi il mantenimento delle distanze sociali cioè del metro ovviamente e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita quindi ci vuole della sorveglianza che mantenga le distanze faccia rispettare comunque controlli il rispetto del divieto di assembramento e controlli quindi pres si trovi adesso non mi dire la parola ma se l'avete capito a presidiare a presidiare gli accessi alle aree di vendita devono ovviamente essere applicate le misure di mitigazione del rischio di cui ai protocolli anzi al protocollo regionale che regolamenta l'attività degli esercizi al commercio al dettaglio in sede fissa e quella sua repubblica che è stato approvato con l'ordinanza del presidente della regione la numero 82 del 17 maggio 2020 e poi con le successive modifiche integrazioni un po ormai lo sapete già no i cartelli i dispositivi per la disinfezione delle mani gli eventuali guanti monouso e comunque anche lo aggiungere io come misura cautelare un'indicazione per quanto possibile del metro di distanza tra le varie postazioni è in ogni caso vietato invece lo svolgimento di sagre e fiere di qualunque genere e qui precisa grazie a di una volta tanto così evitiamo gli equivoci sia le fiere individuate ai sensi della legge regionale 12 del 99 quelle diciamo le fiere tra virgolette commerciali quelle relative al commercio su area pubblica sia quelle perché hanno lo stesso nome regolamentate dalla legge regionale 12 del 2020 cioè le manifestazioni fieristiche ok sono ovviamente due cose completamente diverse bene in entrambi i casi è vietato il loro svolgimento così come vietato lo svolgimento di altri analoghi eventi e richiama in questo caso quanto stabilito dalla lettera n del comma 9 dell'articolo 1 del famoso famigerato di pcm del 3 novembre 2020 altresì vietato lo svolgimento dei mercatini degli obbisti sempre quelli individuati dalla legge regionale 12 del 99 e vorrei anche vedere chi è che va a fare i mercatini degli obbisti in questo periodo e dei mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo e similari quindi mercatini 0 altre prescrizioni che riguardano in questo caso il mondo della scuola in attesa di specifiche indicazioni da parte dei famosi comitati scientifici nelle scuole del primo ciclo scolastico primarie e secondarie di primo grado che io manco so cosa sono perché sono rimasto un po indietro direi elementari e le mie le mie vecchie elementari e medie sono sospese alcune tipologie di insegnamento perché considerate a rischio elevato l'educazione fisica abbastanza ovvio ma anche le lezioni di canto e le lezioni di strumenti a fiato ai miei tempi si suonava il pifero ed evitate battute di ogni genere resumo che non sia cambiato insomma quindi strumenti a fiato no canto grazie a dio men che meno nel senso che cantassi io scapperebbe anche il virus e ginnastica veniamo all'attività di somministrazione che nella fascia oraria tra le 15 e le 18 può essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti questo sia che avvenga all'interno che all'esterno dei locali su posti regolarmente collocati cosa voglia dire non si capisce no è ovvio ormai lo sappiamo già che i posti devono mantenere la lista garantire la distanza interpersonale salvo nel caso di congiunti ok è vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto sua repubblica o aperta al pubblico salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità che abbiamo appena descritto quindi consumazione di alimenti e bevande all'aperto non si possono fare se non sulle sedute degli esercizi che poi voglio vedere se uno non si può bere una bottiglietta d'acqua ovviamente la norma questo dice quindi questo bisogna fare rispettare chiaro che nel centro storico meno gente consuma alimenti e bevande in questo periodo diciamo in forma itinerante meglio è anche perché non si può mangiare o bere senza abbassare la mascherina avete chiaro meglio di me voi che lavorate in strada bene veniamo alla seconda parte che anche questa è molto interessante perché finalmente ci toglie da un imbarazzo che molti operatori in regione hanno incontrato in questi giorni allora veniamo al dunque nei giorni festivi e prefestivi festivi e prefestivi vuol dire non solo sabato e domenica ma nel caso anche di festività infrasettimanali direi di sì festivi e prefestivi a prescindere grandi e medie strutture di vendita ovunque localizzate questa è una grande novità grandi e medie strutture di vendita ovunque localizzate nonché gli esercizi commerciali insediati nell'ambito dei centri commerciali delle aree commerciali integrate e dei poli funzionali di cui al punti 1.7 1.8 della dcr 12 53 del 99 che trovate sul sito della regione se cercate Emilia Romagna commercio in sede fissa trovate questa questo documento bene sono chiusi al pubblico quindi festivi e prefestivi medie strutture di vendita grandi strutture di vendita ovunque localizzate esercizi commerciali insediati nell'ambito di centri commerciali e questo lo sapevamo già la novità novità meglio secondo me non è una novità però la ulteriore specificazione aree commerciali integrate poli funzionali sono chiusi al pubblico quindi il problema è ma io non sono un centro commerciale ma sono una galleria commerciale sono un altro commerciale il problema non si pone più ok chi può restare comunque aperto quindi anche all'interno degli eventuali centri commerciali vendita di genere alimentari farmacie parafarmacie tabaccherie ed edicole forse un po infame la dicitura perché salvo che per la vendita di genere alimentari mi farrebbe supporre che torniamo a mesi passati in cui ciò che non è un genere alimentare non può essere venduto magari vediamo se la regione ci dirà qualcosa in più ok mentre farmacie parafarmacie non non precisa qui dice vendita di genere alimentare apro e chiuso un incido apro e chiudo un inciso io e cibo per animali non è un genere alimentare ma evidentemente sì ok poi che possono stare aperti anche i negozi interamente dedicati alla vendita di cibo per animali questo magari sentiamo con la regione ma il supermercato che vende genere alimentari sicuramente a mio parere può vendere anche il cibo per animali lo devo dire perché sono la mia gatta mi sbrana stasera quando viene a dormire con me faccio notare che non si parla anche di generi di prima necessità ce li ricomprenderei ok quindi carta igienica disinfettanti o meglio detergenti vari secondo me si possono vendere la questione si pone per degli esercizi che vendano tipo le profumerie che vendono anche prodotti di detergenza anche qui speriamo che la regione ci dica qualcosa in più sinceramente potevano essere un po più chiari ma la perfezione arriverà quando sarà morto il covid nei giorni festivi è altresì sospeso quindi abbiamo visto ora festivi e prefestivi adesso solo festivi sospeso ogni tipo di attività di commercio punto sia in sede fissa che su area pubblica fatta eccezione per le stesse categorie che abbiamo visto adesso farmacie parafarmacie tabaccherie edicole e vendita di genere alimentare è sempre consentita la vendita con consegna a domicilio e viene anzi fortemente raccomandata ultima cosa che ci interessa anche abbastanza relativamente però diciamola i corsi di formazione di qualunque genere o natura organizzati da soggetti pubblici o privati possono svolgersi solo quindi devono svolgersi con modalità a distanza ovviamente fatto salvo le specifiche discipline che riguardano comunque la materia dell'istruzione di ogni ordine grado le università le formazioni professionale quello che è di competenza dello stato ovviamente il nostro presidente di regione dice lo lasciamo decidere allo stato quindi fatta salva quanto viene deciso dal ministero dell'istruzione o dal ministero di sanità di concerto con quello dell'istruzione ok la violazione delle disposizioni di questa ordinanza è punita con le solite sanzioni previste dall'articolo 4 del decreto legge 19 2020 convertito nella legge vado a memoria perché non ricordo mai i numeri 35 del 2020 e quindi insomma con le solite sanzioni che conosciamo tutti bene smetto di annoiarvi un saluto a tutti ancora una volta buon lavoro e a risentirci dal vostro affezionatissimo